Benvenuto al professor Massimiliano Caprio, benvenuto. Io ricordo che il professore è il responsabile del laboratorio di endocrinologia cardiovascolare RICS San Raffaele di Roma perché quest'oggi noi vogliamo dedicare la nostra parte dedicata appunto all'alimentazione che noi diciamo che è la parte principale, un po' importante della nostra trasmissione ad una condizione che insomma le donne iniziano ad affrontare ad una certa età insomma parliamo di alimentazione e menopausa perché ogni età ha un proprio regime alimentare e soprattutto in menopausa noi donne dobbiamo fare attenzione per quale motivo? Che cosa succede in menopausa, professore? La menopausa è un periodo di transizione molto importante nella vita della donna e quindi va vissuta proprio come una fase di transizione e non come una patologia una fase in cui si passa dalla vita riproduttiva alla vita post-riproduttiva fondamentalmente è dettata dalla cessazione delle mestruazioni e dall'esaurimento degli ovociti e ciò si associa a un brusco calo degli estrogeni questo brusco calo degli estrogeni che avviene in tempo relativamente breve determina i sintomi tipici che sono i sintomi vasomotori, le vampate, la sudorazione notturna che poi questi sintomi stessi determinano un aumento dell'irritabilità, dell'ansia, un peggioramento dell'umore può arrivare in alcuni casi alla depressione e all'insonnia, disturbi del sonno, disturbi della concentrazione e inoltre questo calo degli estrogeni determina comunque delle alterazioni importanti anche a livello delle mucose tutte le mucose dell'organismo, in particolare le mucose urogenitali vanno incontro a uno stato di atrofia ciò predispone per esempio a un incremento delle infezioni urinarie quindi sono tanti aspetti che possono... Ecco e noi oggi vogliamo un po' analizzare tutti questi sintomi e come contrastarli in qualche maniera sicuramente l'alimentazione gioca un ruolo importante perché tutte le donne che ci scrivono, che stanno affrontando questo periodo un po' delicato beh si trovano qualche chilo in più perché probabilmente avvengono anche degli attacchi di fame come abbiamo letto anche dal cartello come possiamo contrastare questi attacchi di fame? Innanzitutto è fondamentale arrivare alla menopausa in una buona forma fisica, metabolica, di composizione corporea quindi bisogna iniziare molto prima ad alimentarci bene l'alimentazione è importante in tutte le fasi della vita cosa succede? Proprio questo brusco calo degli estrogeni determina una modificazione importante anche del metabolismo basale, della distribuzione del grasso corporeo e alterazioni ormonali anche di ormoni che controllano l'appetito uno ad esempio è l'agrelina determinano sì un aumento della fame e una modificazione dei cibi che si preferiscono stavamo leggendo un cartello con dei consigli anche molto semplici come fare quando ci arriva un attacco di fame quali sono gli alimenti giusti che dobbiamo mangiare invece di mangiare attaccarci magari a una merendina o alla pizza che magari troviamo Aumenta il desiderio dei carboidrati bisogna ridurre tutti i carboidrati semplici sono quelli che peraltro inducono un picco insulinico e aumentano ulteriormente la fame e cercare di fare degli spuntini con dei cibi sani con dei cibi nutrienti con parlo ad esempio della frutta secca il cioccolato amaro, lo yogurt bianco non quelli dolcificati che contengono quantità di dolcificanti che è spesso eccessiva e proprio con l'inserimento di spuntini ben calibrati sia in termini di calorie sia in termini soprattutto di percentuale di macronutrienti è possibile controllare meglio la fame lei prima ha parlato di problemi urinarie la donna ovviamente con il calo degli estrogeni e del progesterone anche purtroppo si va incontro anche a questi problemi ci sono degli integratori, delle sostanze naturali che noi possiamo prendere? innanzitutto è fondamentale l'idratazione corporea perché sappiamo che favorisce comunque la funzione urinaria esistono degli integratori presenti anche nella frutta per esempio parlo il mirtillo rosso americano è ricco di antocianine, di antiossidanti e peraltro di sostanze naturali che vanno a impedire l'attecchimento dei batteri a livello della mucosa vescicale quindi si usa proprio anche come profilassi per evitare le recidive di infezioni urinarie in quei soggetti che sono particolarmente colpiti da questa patologia che peraltro è spesso fastidiosa e non risponde talvolta agli antibiotici un altro elemento essenziale è il mannosio per esempio il dimannosio è uno zucchero semplice che si trova sotto forma di integratore che ha la capacità di impedire l'azione patogena di alcuni germi alcuni batteri che appunto aderiscono alla parete vescicale sicuramente il sintomo più fastidioso per le donne che stanno vivendo che stanno affrontando la menopausa sono le vampate qui accanto a me ho un bel vasetto di salvia e sapete bene sì, la salvia ci può aiutare in che modo dovete rimanere lì? vi diciamo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria non vi muovete ben tornati in diretta qui con me c'è il professor Massimiliano Caprio stiamo parlando di menopausa e di come affrontare questo periodo della donna cambiando anche l'alimentazione allora prima di andare in pubblicità io ho preso questa piantina di salvia perché uno dei sintomi più antipatici sono sicuramente le vampate come possiamo contrastare se c'è qualche integratore che possiamo prendere per contrastare questo disturbo un po' come dire antipatico? dunque la sintomatologia che poi è quella più fastidiosa rappresentata le vampate è determinata anche da questo come ho detto prima questo brusco calo degli astrologi la salvia la salvia officinalis è una pianta molto importante perché è particolarmente ricca di fitoestrogeni sono composti naturali che mimano l'azione degli estrogeni per cui sono stati fatti degli studi su fitoterapici e la salvia forse è uno dei fitoterapici che è più efficace nel ridurre la frequenza delle vampate quindi è sicuramente da consigliare un prodotto assolutamente naturale è chiaro che in questo contesto la cottura può alterare le foglie per cui forse è preferibile utilizzare degli estratti di salvia dove i principi attivi sono chiaramente più concentrati ci sono degli alimenti che contrastano ci sono tanti alimenti che sono ricchi di fitoestrogeni di antiossidanti ma fondamentalmente bisogna ridurre i grassi mantenere un'alimentazione bilanciata sana preferibilmente utilizzare proteine di natura vegetale proprio per il contenuto in fitoestrogeni che sono importanti in questa fase della vita e vi ricordo una cosa la sintomatologia delle vampate è molto più fastidiosa quando c'è uno stato di sovrappeso o di obesità quindi è importante il calo ponderale perché il calo ponderale riduce questa fastidiosa sintomatologia ci sono tanti alimenti che dovrebbero essere consigliati dal pesce azzurro dai semi oleosi che i semi di lino di sesamo di zucca sono particolarmente ricchi sia in triptofano ma sia soprattutto in fitoestrogeni e i fitoestrogeni hanno questa azione di ridurre potenzialmente la sintomatologia rispondiamo a Federica ci ha scritto da Piacenza ci chiede con la menopausa mi hanno detto di bere più latte per le ossa ma non mi piace come faccio? purtroppo sono tante le persone a cui il sottoscritto che non riescono a bere il latte può dar fastidio per fortuna esistono delle sorgenti alternative di calcio che sono molto importanti ma anche prodotti prodotti derivati dal latte lo yogurt bianco lo yogurt greco comunque ricco di calcio i formaggi magri per chi riesce a mangiarli altrimenti l'alimento più semplice è l'acqua l'acqua è un alimento che ci può portare una sorgente importante di calcio soprattutto l'acqua noi siamo qui a Roma l'acqua del rubinetto è comunque ricca di calcio per cui un'adeguata idratazione e la scelta di alimenti che ne contengono a sufficienza moltissime verdure sono ricche la rucola per esempio è ricchissima di calcio i legumi i fagioli la soia i crostacei sono ricchi di calcio per cui si può arrivare a ottenere una supplementazione sufficiente noi devo dire che insomma non mangiamo noi donne a volte per la penesia per la fretta per le faccende di casa sono sempre molto incombenti non mangiamo bene allora l'integrazione ci può aiutare in questa fase della vita cosa dovremmo integrare? l'integrazione importante deve essere attentamente personalizzata è chiaro che nel momento in cui parlavamo del calcio l'apporto di calcio non è sufficiente lì è utile utilizzare degli integratori a base di calcio ma un particolare attenzione va rivolta alle vitamine alcune vitamine parlo per esempio della vitamina D noi viviamo in una fase in cui siamo molto carenti di vitamina D e la vitamina D è importantissima per l'assorbimento intestinale del calcio e in combinazione con la vitamina K2 che ha un'azione diciamo è un derivato della vitamina K grazie alla trasformazione che avviene all'interno del nostro intestino permette soprattutto la localizzazione del calcio a livello delle ossa quindi favorisce e previene quella che può essere l'osteopenia e l'osteoporosi particolarmente rilevanti abbiamo letto anche magnesio e zinco perché il magnesio e in che forma perché il magnesio insomma ci sono tante tipologie il magnesio è importante perché ha delle azioni rilassanti sulla muscolatura sia liscia che striata e il fabbisogno di magnesio è aumentato durante la menopausa per cui il magnesio ha un come dire ha un ruolo importantissimo nell'alimentazione spesso purtroppo soprattutto quando dobbiamo pure pensare che oggi ci troviamo di fronte a alimenti che hanno un po' perso il contenuto il contenuto di micronutrienti e per questo è sempre meglio preferire cibi freschi a preferibilmente a chilometro zero che impediscano i processi di conservazione spesso possono essere dannosi quindi il ruolo del magnesio è importante nel momento in cui c'è una carenza tanto quanto la vitamina D lei prima ha accennato la vitamina D è una vitamina fondamentale non solo per il benessere delle nostre ossa a maggior ragione proprio perché noi donne in quella fase della vita perdiamo estrogeni e progesterone cioè nel senso allora l'integrazione è importante quanta vitamina D dovremmo assumere al giorno? innanzitutto dobbiamo pensarci molto prima perché il picco di massa ossa a noi lo raggiungiamo anni prima quindi tra i 20 e i 30 anni quindi l'apporto di calcio e vitamina D è sempre importante la vitamina D è facile misurarla nel sangue per cui gli stati di carenza possono essere diagnosticati relativamente in modo semplice e quanta? a seconda della carenza perché la vitamina D noi siamo in grado di produrla autonomamente con l'esposizione alla luce solare ma ci sono dei soggetti che sono poco esposti alla luce solare per cui le ipovitaminosi sono molto sono da trattare con molta importanza perché possono dettare problemi sia dell'assorbimento del calcio ma la vitamina D è importante per il sistema immunitario per il sistema muscolare per cui svolge azioni rilevanti su tutto l'organismo per cui mi raccomando fate le analisi del sangue vedete il vostro valore ma sia per la vitamina D sia per quanto riguarda il magnesio è un minerale altrettanto importante allora prima nel cartello abbiamo visto che la donna in questa fase della vita ha dei disturbi nell'addormentarsi dei disturbi del sonno allora a questo punto che cosa bisogna evitare a cena perché mangiamo magari dei cibi o troppo speziati non so ci sono degli alimenti che dovremmo evitare assolutamente sì quindi va fatta innanzitutto una corretta igiene del sonno mangiare tardi per esempio è già una cosa sbagliata anche la crononutrizione è importante quando mangiamo non solo quanto e cosa mangiamo a che ora dovremmo cenare? teoricamente non dovremmo mai cenare oltre le 8 di sera so che questa cosa socialmente è difficile soprattutto nel sud Italia da Roma in giù alle 8 non si cena mai è importante chiaramente dare i consigli alimentari generali quindi evitare cotture cioè anche la modalità di cottura è importante preferire cotture al vapore cotture al cartoccio che non alterano i nutrienti e soprattutto che favoriscono la digeribilità degli alimenti evitare i grassi evitare i grassi saturi evitare i zuccheri semplici evitare le carni rosse e processate e soprattutto evitare gli alcolici perché gli alcolici ahimè purtroppo ci fanno dormire peggio tutte le sostanze eccitanti caffè e te sostanze e sicuramente come ha detto all'inizio ci dobbiamo muovere il movimento è fondamentale per tutto quello che abbiamo detto sinora per evitare sovrappeso e obesità per evitare l'osteoparosi il movimento e l'effetto dell'esercizio muscolare della trazione proprio muscolotendinea sull'osso è fondamentale per cui un buono stile di vita è fondamentale anche per dormire e adesso noi andiamo a ballare grazie a professor Caprio